Io sono Noemi Pianegonda, sono nata a Valli del Pasubio, 30 all'11 del 30. Noemi, la tua famiglia era una famiglia in cui si appoggiava al regime fascista? No, io sono cresciuta in una famiglia dove l'ho sempre respirata quest'aria antifascista, quanto il papà è stato un perseguitato del fascismo, non ha mai preso la tessera nel distintivo che allora era quasi obbligatorio per poter avere un lavoro e lui si è adattato a fare tutti i lavori, però non ha mai accettato questa imposizione, quindi io l'ho respirata da bambina quest'aria, non è come si suol dire che dalla sera alla mattina io ho fatto la staffetta partigiana che me lo sia sognata, c'è qualcosa dietro che me lo sono portato come un patrimonio di cultura, di storia, perché il papà era così, il fratello poi che studiava e come tutti gli studenti erano più aggiornati, col tempo abbiamo capito di più le cose e quindi ecco la mia famiglia è stata così, un papà meraviglioso. E tu però sei nata nel 30, quindi nel 44 avevi… Ho compiuto i 14 anni in carcere. Ecco, che cosa succede nel novembre del 44? Il 18 novembre di sera hanno arrestato mie sorelle, io sono stata arrestata il 19 mattina, il 18 novembre del 44 era di sabato, io mi trovavo in collegio che facevo la terza media dalle Canossiane a Schio, io mi trovavo in collegio dalle Canossiane a Schio, una domenica mattina il 19 novembre, che era di domenica, come tutti, si andava a messa, alle 6 e mezza si sente suonare una scampanellata, la chiesa dell'istituto era anche vicina alla portineria. Che istituto era? L'istituto Canossiane, le scuole Canossiane, io ero lì per fare la terza media, il terzo anno. A Schio? A Schio. Mentre la famiglia? La famiglia viveva a Sant'Antonio, allora non c'erano le scuole medie nei paesi come adesso, era l'unico mezzo per poter continuare. Sentiamo questa gran scampanellata alle 6 e mezza di mattina, va bene così, poi viene una suora e mi dice, Noemi mi batte sulla spalla, ci sono due signori che mi sono e ti vogliono in portineria. Dico, chi sono questi due signori? E dice, non lo so. Ah, dico, chiami la direttrice, dico, perché la suora portinaia non è responsabile di noi educande, noi eravamo le educande. viene la direttrice e dice, assisto anch'io, cosa vogliono. Lo dicono che sono amici di mio fratello, due signori vestiti molto bene e che poi avrò avuto modo di conoscere in carcere per gli interrogatori. mi dicono che sono amici di mio fratello e che però sono andati a Sant'Antonio, dalla famiglia, ma che non l'hanno trovato e che loro hanno estremo bisogno di parlare con lui per mettersi in contatto. Io, già preparata un po' dal papà anche, dalla mamma, dalle sorelle, dico, guardi, dico che io è dal primo ottobre, allora si cominciava la scuola il primo ottobre, e da ottobre dico che io manco da casa, non so, dico mio fratello. Eh, ma non è possibile, non lo so, studiava a Vicenza, sì ho cercato, non lo so veramente. Allora questi due dicono alla madre, noi si chiamavano madri le canossiane, e dice, allora dice madre ce la dà, la bambina dice che la portiamo su dalla mamma così confrontiamo se dice il vero, e lei era la moglie, la sorella dell'onorevole Capelliti di Vicenza, che poi è stata anche onorevole, era una scuola sveglia, dice no mi spiace, dice, se io non ho un permesso scritto, un'autorizzazione scritta dalla mamma, dice io la bambina non ve la do, a me è stata consegnata e qui rimane. Noemi ci puoi descrivere questi due signori che erano venuti? Erano uno grande, magro, con dei baffi, pallido di viso me lo ricordo, con due baffetti neri, così, l'altro invece era più robusto, più piccolo, con un accento spiccatamente fiorentino proprio, e tutti e due mi ricordo col cappotto blè, sia perché noi lo avevamo come educande che era la nostra divisa, il cappotto blè, fatto specie vedere, già eravamo in tempo di guerra e si vedeva ben poca gente vestita bene, con la camicia bianca, cravatta, tirati e lucido diciamo. Ecco, questi erano due, che poi erano due famosi che hanno arrestato l'Adriana, Valì, la mamma e che poi ci siamo ritrovati in carcere. Allora è passata così la domenica, in apprensione dico chissà che la mamma possa telefonare, non sapevo, le suore disperate, dice ma cosa è successo? Non lo so, io non volevo dire, Walter, anche se dico che è in montagna, come faccio sapere dov'è, lo dicevo fra me e questo, e non so niente di Sant'Antonio, da lassù nessuno.